Ciao frate e ciao sore, stamattina mi è successo un casino allora vado a spingere il telefonino, spingo dei numeri, dei bottoni, digito la connessione, cancello la connessione tra internet, tra il telefonino e il modem ho solo il wifi, solo che stando con il wifi spendi un sacco di soldi poi sprechi il wifi se consuma cosa nel telefonino per cui a casa sto con il modem no? così pago diciamo il modem però ho cancellato il numero, chiamo il 2916 mi sembra che è quello il numero dalla team e mi dicono spingi il numero 1 per cos'è? spingi il numero 2, infatti per spingere il bottone ho comprato un'opzione che manco mi serve mi sono sbagliato, ho comprato un'opzione che non mi serve ma non mi serve, vaffanculo ma porco dici dove lasciamo perdere, mi fa pensare ho speso 3 euro mi sono partito 3 euro così speriamo che quando mi scade mi si blocca questa connessione ho chiamato questo numero niente, mi hanno dato niente allora ho chiamato il 187 perché sono andato su Google Google e ho chiamato il 187 mi hanno detto aspetta un attimo parli con un operatore fra mezz'ora ti richiama dopo l'ho richiamato perché mezz'ora era passata e gli ho detto all'operatore senta a me mi si è scollegato il modem il cellulare dal modem la password l'ho cancellata per cui ridatemi un'altra password perché quella che sta scritta sotto del telefono è indecifrabile non c'è se capisce un cazzo così loro me l'hanno detto ho detto vabbè ti diamo la nuova password però devi pagare 30 euro no, l'ho detto così perché il telefonino è intestato a mio padre 30 euro vabbè dopo risarcisco io comunque ora il telefonino è collegato e per chi non avesse capito caput capito caput e se questa se questa che? mi sono scordato se questa notizia non andrà sulle prime pagine di tutti i giornali caput a voi caput a voi e a tutte le vostre famiglie no, era così a tutte le vostre famiglie caput a tutte le vostre famiglie ciao 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 ciao